Faccio mia quella di Di Somma? E questo ovviamente è una battuta scherzosa perché il momento merita probabilmente un discorso di questo tipo, nel senso un po' più spensierato, un po' più tranquillo. Certo sono felice per come è andata la situazione per l'Avellino e per me, nel senso che siamo riusciti a dimostrare la nostra totale straneità sia dell'Avellino sia mia sia dei giocatori interessati e mi riferisco ovviamente a quelli che avrebbero contribuito a fare questa combina con gli accusatori. E con Millesi che è l'unico che è rimasto impregnato, impevolato in questo discorso. Mi dispiace per Ciccio perché Ciccio aveva sempre fatto molto bene a Ravellino, aveva giocato tanti anni con noi, era uno di noi, per cui non so se è vero quello che è successo, se è vero di cui lo accusano. Mi dispiace per lui perché probabilmente si sarà trovato in una situazione particolare, è difficile dare giudizi sul comportamento delle persone. Mi dispiace perché con noi è sempre stato un capitano attento, è sempre fatto il proprio dovere, è sempre lavorato per il bene dell'Avellino, quindi sono dispiaciuto per lui. Sono, come ho detto prima, sono abbastanza soddisfatto di come è andata per noi perché siamo stati nel merito e quindi non abbiamo usufruito, come avevo detto più volte, di questa situazione rocambolesca creata da Chiacchio e portata da Chiacchio circa un eventuale annullamento del processo. Perché è come se ci avessero assolti per decorrenza di termini, non è così. Noi per fortuna siamo usciti da questa situazione in maniera tranquilla, sono contento per Gigi naturalmente che è l'unico che è rimasto con noi, oggi l'ho visto finalmente sorridere dopo tanto tempo e quindi spero che lui possa essere un'arma in più per l'Avellino per le prossime partite, per il proseguo del campionato. Sono arrabbiato perché non abbiamo fatto nulla e quindi non mi aspettavo nulla sotto questo profilo, quindi sembra paradossale, uno è contento da un lato e arrabbiato dall'altro. Sono arrabbiato e dispiaciuto perché tutto sommato il nome dell'Avellino è apparentemente messo in prima pagina per dei punti di penalizzazione per un illecito sportivo, quindi questa è la cosa che non mi fa piacere certamente. E su questa situazione, nonostante i punti sono diventati solo tre e potrebbero essere oggetto probabilmente di un'ulteriore riduzione, non ci fermeremo qui, andremo avanti nel senso che sicuramente proporremo ricorso. Adesso sono uscite le motivazioni, l'abbiamo letta, ho visto che anche lo stesso Izzo è stato praticamente condannato perché non avrebbe denunziato il fatto, ma non perché ha contribuito in prima persona. Sicuramente i 18 mesi di Izzo saranno oggetti di ulteriori valutazioni da parte degli avvocati e da parte della Corte per il proseguo di questo processo, sicuramente. Poi inizia il processo penale per chi ha fatto i decidi penali, ma questo è un altro discorso che non ci tocca. Questa è la situazione nostra, oggi sono andato negli sfogliatoi e ho detto quello che pensavo, ho dovuto tranquillizzare, i ragazzi erano contenti perché rispetto ai sette punti che si erano palesati, averne soltanto tre sicuramente sono un numero di punti sufficiente per poter guardare con ottimismo per il futuro del nostro campionato. Sono andato negli sfogliatoi e li ho ulteriormente caricati, oltre a quello che fa il Ministro tutti i giorni. Ho detto che adesso dobbiamo andarci a prendere i tre punti che ci hanno rubati, perché ce li hanno letteralmente rubati. Noi non facciamo illeciti. Cioè chi ha avuto i punti di penalizzazione per i leciti amministrativi, gli leciti li ha fatti. E quindi è giusto che abbia punti. Noi non abbiamo fatto niente. Anche perché questa situazione di lo stesso Millesi è più che altro, secondo me, un tentativo di prendere soldi senza fare nulla. Quindi è un pur parlet. Quindi non c'è stato nessuno dell'Avellino, secondo me, che ha fatto niente di illecito. Per cui i tre punti ce li andremo a giocare sicuramente in appello e speriamo che si fermi lì e di non andare addirittura all'ultimo grado, al CONI. Sono abbastanza fiduciosi. I tre punti noi andiamo a Pisa. Ho detto ai ragazzi che voi dovete andare in campo mettendo oltre quello che avete. Oltre qualità, le solute cose che avete sempre. Mettete anche il cuore verso una sentenza che ci lascia perplessi, compiacenti da un lato, ma dallo stesso tempo arrabbiati dall'altro. Perché sono veramente punti che ce li siamo guadagnati sul campo, per cui vederseli togliere in un'unica soluzione non fa bene. Cioè scendere di tre punti, la 44 alla 41, una cosa non mi piace. Allora dobbiamo andarci a prendere i tre punti a Pisa e dobbiamo rimettereci i 44 punti che avevamo ieri. Allora il discorso è questo. Il processo non sarebbe finito oggi. Nel senso che se avessero dato nulla, la Corte federale, la Procura avrebbe sicuramente fatto ricorso. Quindi ce l'aspettavamo, non è questo il problema. E le altre società, come hai detto bene, già so di altre società che prima della sentenza si sono mosse per cercare di convincere i loro, fra virgolette, amici ad avere un pugno di ferro con l'avellina. Ma questa è una scorrettezza proprio totale. Non la voglio neanche commentare, perché si commenta da sola. C'è una persona che non meritano nulla, quelli che hanno fatto questo. Io so anche i nomi, non li posso dire, ma so anche i nomi di chi ha fatto questo. Prima della sentenza, quindi dopo la sentenza avranno un gioco facile a cercare di inserirsi. Ma che cosa si vogliono inserire? Forse non hanno letto gli atti. La Procura non ha nulla in mano. Non c'è un movimento di danaro. Non c'è un movimento di nulla. Le intercettazioni che hanno non dicono nulla. Hanno fatto indagini per anni, non per giorni o mesi. Non hanno nulla. Quindi di che cosa si vogliono appellare? Vogliono appellarsi al fatto che una società che non ha fatto nulla di illecito sia stata, fra virgolette, graziata da una corte che devo dire che è composta da giudici di primissimo livello. Quindi grande applauso ai giudici che hanno poi guardato le carte. E credetemi, io sono stato lì in Sede e voi eravate a Roma. Conoscevano la situazione alla perfezione. Conoscevano tutto, dettagli, memorie difensive, quello che ha detto la Procura. Conoscevano la cosa nei minimi dettagli. Quindi io sono fiducioso che oltre questo neanche un indovino potrebbe metterci una cosa in mezzo che possa aggravare la situazione dell'Avellino. L'Avellino fa ricorso perché merita probabilmente di avere un trattamento diverso. Poi ci sarà l'eccezione che verrà riproposta perché se non lo sapete vi faccio, ve lo dico, tanto è un segreto di pirro. Quindi vi posso fare una comunicazione quasi ufficiale. Noi abbiamo fatto venerdì l'udienza in cui è stata presentata dall'Avvocato Chiacchio e dagli altri Avvocati la richiesta di annullamento del processo per la decorrenza dei termini. E questa cosa è finita intorno alle 15.30, se mi ricordo bene, più o meno, non ricordo con esattezza, alle ore 18, dopo 4 ore dello stesso giorno, hanno fatto una nuova sentenza di venerdì, che ha messo in discussione la prima sentenza del CONI, che per il tennis aveva detto che i termini erano imprograssinabili. Lo stesso giudice che ha partecipato a quello per il tennis, in un'altra giuria, chiamiamola così, ha detto il contrario per un altro sport, non so neanche, qual era l'altro sport? La canoa. Cioè di che stiamo parlando? Questo che significa? Questo che significa? Significa che ce l'hanno a morte con qualcuno, ma forse non tanto con noi, perché non è che la cosa gli fa piacere, qualcuno ci aveva dato spacciato, probabilmente a ottobre, a novembre. E quindi vedere l'Avellino che è tornato un'altra volta in piena corsa per la salvezza e per altre cose più importanti, può darsi che non faccia piacere a tutti. Ma voglio dire, rendetevi conto di che cosa siamo, cioè siamo in una situazione paradossale, nella quale la mano destra non sa quello che fa la mano sinistra, o meglio ancora, un dito della mano destra si mette nel dito della mano sinistra e fa il contrario. Cioè guardate, è veramente paradossale, credetemi, insomma, questo aggiungo, ti rispondo, fa venire la voglia di smettere, di risentire, vedete che c'è una cosa buona, il calcio fatevelo voi, perché è una cosa che non ci appartiene, insomma, questo calcio, questa decisione. Noi arriveremo probabilmente alla fine di questo secondo iter, quello dell'appello, arriveremo a un punto tale in cui devono sfostare o i play-out o i play-off, probabilmente. Può darsi che non sfostino niente, perché l'Avellino sta in mezzo, sta tranquillo. Ma appunto a caso che si verifichi una delle due ipotesi, quella più rosea nostra e quella meno rosea, sono costretti a spostare i play-out o i play-off, cioè è la cosa di una gravità unica. Dirò in federazione, lasciamo stare il regolamento, lasciamo stare la legge, quello che consente oggi, le norme attuali. Noi dobbiamo fare razionalmente un discorso fra persone per bene. Allora, fino ad ottobre o fino a novembre gli illeciti vengono sanzionati entro dicembre e basta, e poi se ne parla l'altro campionato. Quelli che vengono da gennaio in poi se ne parlano nel campionato successivo, se no non si capisce niente. È un campionato totalmente drogato questo, è un campionato in cui non sai cosa devi fare, cioè ti sentessero conto. Aspetto maggio, non c'è dubbio, ma sono convinto di questo. Se l'appello non ci darà ragione, l'Avellino dovesse avere dei punti, trovatevi un altro presidente. Siamo sempre lì, cioè i giocatori per i quali potrebbe valere un discorso di questo tipo, non è che ce ne sono da l'Avellino, c'era solo Millesi probabilmente, che avrebbe, secondo il giudice, mai secondo me, avrebbe tentato di fare qualcosa. Tradito, tenete conto che Millesi è un giocatore che è stato voluto bene e osannato da Vellino, da tutti, non solo da noi, dal pubblico, da voi giornalisti. Ogni volta che abbiamo cercato di dire che Millesi nell'ultimo anno andava probabilmente fatto riposare perché creava dei danni giocando, ma questo è un dato di fatto che non è che lo dico io, era un fatto alla Valiziano, quando Ciccio purtroppo, che è stato un grande giocatore, aveva perso lo smalto dei tempi migliori e quindi non poteva giocare esterno alto perché non aveva più la gamba di farlo, non poteva giocare esterno basso perché non era il suo ruolo ed era arrangiato e quindi ogni volta che il nostro mister Rastelli lo metteva in campo correvamo il rischio di avere 40-50 cross ogni volta dal suo lato, ma io voglio dire che questo non è questione di essere tradito perché Ciccio ha fatto sempre il suo lavoro perfettamente bene, io sono convinto che non ha fatto nulla, quindi non sento di addossare colpe a nessuno, Ciccio Millesi è stato un grande giocatore della Vellino, lo ringraziamo sempre per tutto quello che ha fatto e spero che lui possa dimostrare la sua estranetà ai fatti, quindi sicuramente non sono tradito sotto questo profilo, assolutamente. Grazie per la visione!